Il piano concordatario della cooperativa Muratori Cementisti di Ravenna è stato approvato all'unanimità dall'Assemblea dei Soci della CMC. La proposta in bianco consentirà di assolvere le pendenze economiche con le differenti tipologie di creditori e sarà depositata in tribunale entro l'8 aprile prossimo. Ciò consentirà la continuità di cassa in maniera positiva. Il recupero dei claims e degli altri crediti saranno poi effettuate di emissioni immobiliari e verranno rispettate le commesse in atto consentendo non solo di soddisfare i creditori ma anche di proseguire i rapporti commerciali. Successivamente entro 90 giorni dall'omologazione saranno emessi gli SFP strumenti finanziari partecipativi dotati di diritti patrimoniali e amministrativi. I vertici quindi sperano che con le nuove disposizioni gli SFP potranno soddisfare i creditori chirografari non classificati come fornitori strategici. Saranno così assorbiti i flussi netti generati dalla società per il 2020 e 2021 e nei nove anni successivi i suddetti flussi saranno destinati alle distribuzioni di dividendi e riserve attribuite ai titolari di SFP con immediato effetto liberatorio per CMC.